E quest'oggi ospite dei nostri studi l'europarlamentare antiproibizionista Marco Taradash, che è a Trieste nella giornata odierna per presenziare alla conferenza dibattito dal titolo Droga le alternative al proibizionismo, che il coordinamento radicale antiproibizionista Cora ha organizzato in collaborazione con la magistratura democratica nella Sala Oceania della Stazione Marittima. Alla manifestazione partecipano quali relatori e personalità autorevoli del mondo locale, come Luigi Dainotti, esponente di magistratura democratica, Margherita Hac, direttrice del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Trieste, Franco Rotelli, direttore dei servizi di salute mentale, Roberto Maniacco, avvocato penalista e protagonista del processo per la strage di Peteano. La proposta antiproibizionista avverte, per chi non lo sapesse, su un controllo statale, sulla produzione e sul commercio di sostanze stupefacenti, oggi illegali, in modo da togliere alle organizzazioni criminali il monopolio del traffico e gli enormi profitti da esso derivanti e per far uscire il tossico dipendente dal mondo della delinquenza e della clandestinità. E questo, Taradasi, in sintesi il contenuto della vostra proposta c'è di più perché è così difficile riuscire a spiegarsi in questo senso. Ecco, c'è chi proprio non vuole neanche accettare questo tipo di proposta, questa regolamentazione che voi proponete. Ma io credo perché c'è una cattiva informazione e poca riflessione su quelle che sono le conseguenze della proibizione oggi e quelle che sarebbero invece le conseguenze della legalizzazione. Oggi la realtà è davanti a tutti. Droga non è soltanto il ragazzo tossicodipendente che magari è stato avvicinato da un suo coetaneo che aveva bisogno di procurarsi soldi per comprarsi l'eroina e allora gliel'ha venduta. Droga è anche la violenza che c'è per le strade, sono i passanti, soprattutto gli anziani, che vengono aggrediti ogni giorno, ogni sera e che sono veramente la generazione al macello oggi, quella tra i 50 e i 70 anni, perché sono la prima, la più diretta preda dei delinquenti della droga. Droga e la corruzione politica sono le mafie che non stanno soltanto nei paesi dell'Italia meridionale, ma che ormai risalgono verso il nord Italia e si sono impadroniti delle economie di intere situazioni. Ecco, droga oggi è tutto questo perché la legge provoca tutto questo. Se, come noi chiediamo, la droga, le droghe saranno legalizzate, intanto riacquisteranno il loro nome di battesimo e potremmo distinguere tra droghe che non fanno molto male, sicuramente molto meno male di sostanze che sono di uso comune, come le sigarette e il tabacco, e parlo ad esempio di hashish e marijuana, e sapremo anche difenderci meglio dalle conseguenze delle droghe pesanti come l'eroina, che non sarà più in circolazione per le strade, non arriverà più davanti e dentro le scuole, minacciando direttamente la vita dei ragazzi più giovani, quindi più esposti a questo rischio. Ma chi vorrà fare uso di queste sostanze dovrà andarsene a comprare con la prescrizione del medico pagando le poche lire che queste sostanze valgono e quindi senza il bisogno di procurarsi le centinaia di migliaia di lire che invece oggi il mercato nero richiede. In questo modo noi crediamo si toglierà ogni incentivo ai venditori di droga per continuare il loro mestiere e di conseguenza scomparirà immediatamente il narcotraffico. Certo, non scompariranno le droghe, ma queste saranno molto più controllabili come sono controllabili le medicine che usate male, fanno molto male spesso. Verrebbe comunque mancare un po' il deterrente della pena in questo caso, ecco. Cosa corrispondete a questo tipo di considerazioni? La pena non è mai stata un deterrente da nessuna parte, tant'è vero che da quando la proibizione è effettivamente in atto, cioè da 15 o 20 anni la droga da piccole zone dove prima era circoscritta ha invaso tutto il mondo. Oggi non c'è paese al mondo senza la droga e senza le mafie della droga, senza la delinquenza della droga e tutto questo è avvenuto perché c'è stata questa legge, non nonostante questa legge. Questa legge proibendo ha fatto crescere enormemente il prezzo, il valore, ha creato dei profitti giganteschi. Oggi in Italia si calcola che la mafia della droga, le varie mafie della droga raccolgano tra i 40 e i 50 mila miliardi. Con questi denari corrompono, ricattano, minacciano e quindi fanno affluire come un torrente in piena in qualsiasi strada, in qualsiasi città, appunto queste ondate di eroina, di cocaina, di tutto il resto. Togliamo il denaro dalla circolazione e dietro al denaro scomparirà anche la droga nella sua quantità gigantesca di oggi. Bene, noi ringraziamo Marco Tara, da Sceuro parlamentare antiproibizionista, segretario del COLA che è intervenuto quest'oggi a Trieste al dibattito su droga, le alternative al proibizionismo. Grazie a voi per la cortesa attenzione. Grazie.